Non è possibile controllare la presenza e la quantità del lavoro effettuato attraverso strumenti informatici. Non si può inserire una password anche per una breve pausa. Si tratta di strumenti vietati dalla legge e quanto denunciato questa mattina davanti alla proma di Pozzilli dal segretario regionale della FIOMCGL relativamente alle sanzioni combinate a otto dipendenti dell'industria di componenti per auto. Il 15 aprile del 2021 il Garante per il trattamento dei dati personali ha emanato un provvedimento dove sanziona il gruppo Proma per l'utilizzo dei sistemi denominati PPMS per la raccolta dei dati e per il monitoraggio dei lavoratori sulle postazioni di lavoro. È un lavoro che è partito nel luglio 2017 dove noi abbiamo fatto varie denunce e l'11 febbraio 2019 abbiamo fatto un reclamo al Garante dove ci ha dato ragione rispetto alle valutazioni e all'analisi dei sistemi inseriti negli stabilimenti Proma. Proma conta 16 stabilimenti in Italia. Il reclamo purtroppo l'abbiamo fatto solo noi come FIOM del Molise. Il lavoratore era obbligato a inserire una password per lavorare e quindi da lì veniva monitorato secondo dopo secondo rispetto ai pezzi prodotti, alle fermate e altri dati. Quindi la Proma raccoglieva impropriamente i dati di ogni singolo lavoratore e individuava ogni singolo lavoratore. Per questo ci sono stati lavoratori che sono stati sanzionati per il rifiuto dell'inserimento della password per non far sì che i propri dati non sapevano dove andassero a finire. E la FIOM CGL attraverso il suo servizio legale ha proposto ricorso contro i provvedimenti disciplinari adottati dalla Proma. È stato emesso un provvedimento sanzionatorio nei confronti della Proma e delle inciunzioni che devono essere rispettate appena l'inasprimento delle sanzioni. In sostanza quello che noi abbiamo contestato è che attraverso l'utilizzo di questo sistema vengono controllate le attività dei lavoratori, vengono individuati i singoli lavoratori che sono di volta in volta assegnati alle varie postazioni e purtroppo è stato accertato che con la consultazione dei dati raccolti da questo sistema vengono anche sanzionati e messi i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Tutto questo è riportato nel provvedimento che peraltro è pubblicato sul sito del Garante, quindi è visionabile da parte di tutti. Abbiamo ottenuto questo importante risultato che impedisce nella sostanza al datore di lavoro di utilizzare un sistema che consenta la violazione delle prescrizioni previste dall'articolo 4 della legge 300 del 70, lo statuto dei lavoratori, che non consente al datore di lavoro di esercitare un controllo diretto dei propri dipendenti, non in alcune circostanze.